Buongiorno. Benvenuti sui nostri treni. Per salire sul treno desiderato, dovrete acquistare il biglietto in tutte le biglietterie o nei distributori automatici. Il gruppo Ferrovie dello Stato, vi augura buon viaggio. Il treno regionale, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Brescia, e in arrivo al binario 5. Attenzione! Lanciarsi oltre la linea gialla. 33 Trentini entrarono in treno Trenitalia Trento, tutti e 33, trotterellando con 33 minuti di ritardo. Trenitalia informazione gratuita, il treno da lei desiderato è inesistente o momentaneamente non disponibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Trenitalia free information, you want to book, the train is non-existent, or not available, at this time. Please try again later. Thank you. È severamente vietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio. Vale anche per te stupido piccione. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Piccioni, volate via se non volete essere investiti. Il treno passa tra. 5. 4. 3. 2. 1. Siete morti. Aaaaaaaaaaah vi avevo avvisato. Il personale di Trenitalia sta effettuando controlli eccezionali sui treni, contro l'evasione tariffaria. Viaggiare senza biglietto o con biglietto non obliterato, comporta un'emta pari a 50 euro. Ricordiamo che non è possibile pagare tale multa con. Carta di credito. Carta Bancomat. Buoni pasto. Scambio e baratto. Banconote del Monopoli. Prestazioni sessuali. Trenitalia vi ringrazia e vi augura buon viaggio. Ma dove ho messo le mie sigarette? Trovate. Attenzione! È severamente vietato fumare nelle stazioni nei vagoni del treno. Ops. Sono stato esgamato a fumare, mi stanno dando un'ammenda di 5.000 euro. Che figura di merda. Ciao bella porcona. Ma che cazzo, non si può avere un po' di privacy, nemmeno in viale Zara a Milano. Andate a fanculo. Trenitalia sta aderendo ad un nuovo patto contro l'inquinamento globale. Dal 2012 entreranno in funzione i nuovissimi treni a trazione umana. Infatti, sotto le poltrone, ci saranno dei pedali per far sì che il treno viaggi e che tutti i passeggeri tornino a casa. Il costo del biglietto rimarrà invariato. Attenzione! Treno super veloce in transito al binario Flash, sorridere allegramente allontanandosi con cautela dalla linea gialla. Novità. Nuovo concorso di Trenitalia. Eleggi il treno migliore. Per votare, recarsi nelle biglietterie in tutta Italia. Il treno Disney Channel, 2584, proveniente da LR Leone, è diretto a Pocahontas, è in arrivo al binario 6. Ferma a Topolinia, Castello della Bestia, Paperopoli, Gotham City, Forest Proibita, Valle Incantata. Attenzione! Allontanarsi dal coniglio. Trenitalia. Il treno di tua nonna, proveniente da fatti i cazzi tuoi, è diretto a casa tua, è in arrivo al binario non precisato. Attenzione! In questo treno, 5546, di Trenitalia, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Chiasso, non verrà effettuato il controllo dei biglietti perché, la controlloressa è rimasta a casa con l'influenza. Trenitalia si scusa per il disagio. Attenzione! Treno super lento in transito al binario 9032, avvertire le lumache e le tartarughe di avvicinarsi di fretta, alla banchina del binario del treno. Buongiorno! Benvenuti sui nostri treni. Per salire sul treno desiderato, dovrete acquistare il biglietto.